Amici di MidiWord, siamo qua da BlackBerry e abbiamo davanti noi il nuovo BlackBerry Q1. BlackBerry torna sul mercato, prodotta dagli stessi cinesi che producono i telefoni Alcatel, ovvero TCL Communication, che ha preso in mano il brand per realizzare un nuovo prodotto. Ovviamente l'hardware è BlackBerry, BlackBerry Vero, anzi il sospetto è che l'abbia progettato addirittura BlackBerry prima di rinunciare a fare dispositivi, comodo in alluminio, ben costruito con un ampio display da 4.5 pollici nella parte superiore. Il software è ovviamente Android, Android versione 7.0 e non mancano le tipiche feature di BlackBerry come la parte di messaggistica, ovviamente tutta una suite di sicurezza che ci avvisa se lo smartphone è sicuro. Ovviamente c'è Android con l'assistant integrato, adesso l'assistant c'è su tutti i suoi di Android e c'è l'ampia tastiera QWERTY nella parte inferiore dove all'interno del tasto spazio è stato inserito anche il lettore di fingerprint per le impronte digitali. Schermo da 4.5 pollici, fotocamera frontale da 8 megapixel, posteriore 12 megapixel e ovviamente LTE. Tra le suite e i software fatti di BlackBerry c'è appunto DTEC per la sicurezza e il BlackBerry Messenger. Un buon smartphone, tutta la scocca è in alluminio, il retro è il tipico BlackBerry, quindi con la finitura, quella leggermente soft satinata in semi pelle, con lezione USB Type-C e anche una buona portabilità, si usa con una mano quindi non è il classico smartphone gigante. Questo è BlackBerry KeyOne.